Oh sono il REC! Bella a tutti ragazzi, qui è Martex assieme a Gonzele e Frisk su Discord Frisk, freschissimo Frisk che ci allieta con la sua vitalità Sì è il primo video che andiamo a girare con Frisk, anche se diciamo era inconsapevole del fatto Perché io mi metto a frazzare di botta Oggi andiamo ad aprire 102 pacchetti, scrigni diciamo, della battaglia dei mondi, della Bow Vediamo che ci riserva il nostro destino, in quanto l'altro giorno non ho beccato nemmeno una superiore Solo cacate, quindi andiamo Primo pacchettino, apri scrigno, tintura della sopravvivenza! Superiore o media? Superiore compa! Bene bene Che culo, porca troia Verinice, verinice 10 invisibilità, questa è una devolta, quanti io dico Però, siamo già a due benedizioni di esperienza da 10.000 Una lavoratore Poi, arcano, arcano Poi leggente arcano, attenzione velocità End andro se ne volete Invisibilità, lavoratore Muovere un po' le palle Che vi faccio l'elenco Eh sì, eh sì E poi mi dicono perché non guardi i video che facciamo insieme perché tanto io li vivo Quindi non li voglio farsene Lol, una cambiamento E a me l'ho dimenticata il cambiamento qua dentro Un lavoratore Non ne voglio lavoratore che già sono zeppo Compro maestro E' un'antidoto E' un'antidoto E dai Che palle Finchia ho la botta di culo all'inizio Basta Non te la do più Eh, va bello Due lavoratore Tre reagenti arcani Prima ne ho aperto tre Ho aperto 100 reagenti arcani E abbiamo trovato Non dico rune perfette Però belle rune Oh Tentura della città Della palle Speriamo Benedizione d'esperienza Grande Invisibilità Velocità Regente arcano Minchia Un'altra benedizione Oh Siamo a 40.000 punti exp Per il nostro petticello Lavoratore Trasformazione Antidoto Volontà di vivere Minchia Io lo sto rincoglionendo A Frist in diretta Formula del cambiamento Basta Ste cagate Dai Compà Ho smesso di vendere Le Osiris E non le vende Nessuno Ma chiedigli Se vuole Le maestro Proprio Per upare Oppure Per raffinare Due lavoratori Ma chi E l'amichetto nostro Oh Siamo alla quinta Benedizione Dell'esperienza De 10.000 Tintura della sopravvivenza Media Buona dai Transformazione Antidoto Gli ultimi testini Lavoratore Tintura della sopravvivenza Superiore Siamo a tre Minchia Questo si che è stato Un bel pack opening Ma lo dico da solo GG GG Bene Mi avete portato fortuna Se sta bene Inizio Nell'esperienza Formula del lavoratore Vogliamo frisco In tutte le Pack opening GG ragazzi Bello Minchia Mi è piaciuto Sto pack opening Poi Poi Alla prima botta Che è proprio Il primo scrigno Tintura della sopravvivenza Superiore E' stato epico Che bello Che laggo E quindi poi Mi arrivano Tutte le tue Lavoratore Le parole Insieme Quindi sembra Che parli Velocizzato Lol Comunque Vabbè Lo chiudo qua Sto video E' stato un po' Short 5 minuti di video Giusto per mostrarvi Che cosa Dovevo Che cosa Ci potevo trovare All'interno di questi pacchetti Sì ma Ha rotto le palle E niente Un saluto Dalla Martex E poi Vi lascio i saluti Dagli altri due membri Che sono qui In Discord Ragazzi A voi la parola Ciao gente Saluta anche tu Dai non ti vergognare